Un commento di Leroy Anderson sul mio video su Gustavo Roll. Gustavo Roll è nato nel 1903, ventesimo secolo, non diciannovesimo. Se già sbagli il contesto storico, evito di guardare il resto, evita pure. Oh, non ti obbligo mica io a leggere il resto. Del resto, ammesso anche che non fosse una svista che io abbia detto proprio volutamente ventesimo invece di ventunesimo o diciannovesimo. Siamo al 1903. Se a te sono proprio molto importanti tre anni in relazione a questo che è un po' a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo, oh, io non ti obbligo a leggere niente, non guardare i miei video. Stai bene alla larga, caro Leroy Anderson, che se a me chiedono di parlare di Gustavo Roll e il suo gran temuto segreto, io faccio lo sforzo di cercare di capire quale fosse il suo segreto. E questo lascia nella gente tutto il suo lecito modo di poi pensarla sulla mia improvvisata comprensione che possa avere di un segreto altrui. Se fosse mio il segreto, potrei dirtelo con cognizione di causa, ma è il segreto di un altro. Mi hanno chiesto di svelare il segreto di un altro e ho fatto il mio sforzo. Io sono un essere normale, mica tu leggiti quello che vuoi, segui quello che vuoi, lascia perdere i miei video. Stanne bene alla larga che io faccio volentieri a meno di chi va a guardare le virgole in un modo così esagerato.